Pac, Roma, Galleria Mucciaccia, piazza di Fontanella Borghese, mostra di Piero Pizzi Cannella, pittore romano della cosetta seconda scuola romana. E questo è un po' una summa, interno via degli Ausoni, là dove al pastificio Cerere si trovano gli studi di alcuni artisti legati a quell'esperienza. Ricordiamo la mostra Atelier, 1984, forse era già 1985. Buio, luce. Volo. Tripla Sky Line. A plein air. che in qualche misura contrasta con gli interni, la pittura di Pizzi Canella è a suo modo per definizione una pittura di interni. Arredi, scrigni, luce, cocci, cristallo. Candele, simulacri di ombre. Richiede poche parole. Un commento di contrappunti, perle, pendagli. Quasi un monocromo affiorante. Parvenze di paesaggio sovrapposte a pennellate che campiscono loro. Abito, nottambulo d'oro. Figure a cefale. Apoteosi di San Pietrini. O così a noi appaiono. Stelle o forse lucciole. Nottambulo. Misura informale. In realtà affiora una sottoveste, un abito. corallo. corallo. Come una ferita. Una stilettata. Nel punto lì. Grazie. Esterno giorno, la luce a raccontare il fuori e il dentro delle cose. Pac, Pizzicannella, dicembre 2019, Roma.